La cooperativa LAI, lavoro anch'io di Sernia, per il sedicesimo anno consecutivo festeggia il Natale. Un'occasione quella di ieri importante per l'aggregazione e la solidarietà. Anche quest'anno con la LAI vogliamo ricordare il Natale come occasione che abbiamo tutti per vivere nella solidarietà anche il significato più vero del Natale. Un'accoglienza che abbatte ogni barriera, una solidarietà che diventa festa della diversità ma in modo particolare noi viviamo in questa dimensione della LAI il vero significato di essere famiglia dove solidarietà, amicizia sono un tutt'uno e dove questi ragazzi si inseriscono in un contesto sociale che diventa la grande famiglia della città di Sernia, la grande famiglia della diocesi di Sernia-Venafro. Abbiamo avuto anche noi il nostro 13 novembre in casa nostra, in due mesi abbiamo perso Paolo, il papà di Luca e il nostro presidente. Dobbiamo rivolgere un pensiero a chi ci ha lasciato ed era un benemerito di questa casa. Giorgio Cristina non è stato solo il benemerito ma il fondatore e quindi il pensiero nostro non è un pensiero come diceva Sua Eccellenza prima del passato o di tristezza, è un pensiero di consapevolezza che quello che abbiamo fatto nei 16 anni che sono passati sarà ciò che faremo per sempre ma proprio per sempre su quello che ha costruito Giorgio Cristina, questa integrazione, questa inclusione sociale e questo dare la possibilità alle famiglie di sentire, di avere come dire uno spiraglio nella propria vita quando hanno questo problema possono venire qui e i loro figli possono stare qui con noi per tutta la giornata e tornare a casa con senza herita.